Ciao, scusate la luce che arriva così, sembro un'apparizione angelica, o meglio, sembra che ci sia un'apparizione angelica vicino a me. Dunque, oggi volevo andare avanti con la mia infausta serie La Germania non è il paradiso per dire quello che è successo con il famoso Institut Goethe, che sarebbe dove farò l'esame. Dunque, mi sono arrivate informazioni sull'esame e mi è venuto quasi da ridere perché dovete sapere che l'esame B2, che è quello che farò, spero andrà tutto bene, dunque questo esame costa 230 euro, che già una persona dice non è proprio gratuito, ma i miei hater diranno subito che non è vero che costa 230 euro, anche se veramente, fidatevi, costa più di 200 euro, poi comunque gli esami di lingue sono tutti cari, io ho fatto anche l'IELTS ed era caro già tre anni fa, quindi non è una critica alla Germania, è semplicemente così, sono diciamo molto cari, adesso non so gli esami di francese perché io non parlo assolutamente francese, però quelli di cui ho informazioni sono cari, fidatevi. Quindi niente, le cose sono andate così, esami costosi. Poi c'è stata una cosa che mi ha fatto veramente ridere, se io voglio che l'esame venga spedito a casa, devo portare addirittura una lettera, probabilmente affrancata, una busta, insomma, scusate, una busta affrancata con il nome del posto dove risiedo, insomma è il mio indirizzo, il nome e cognome indirizzo, perché altrimenti non me lo spediscono, quindi devo pagarmi anche francobollo, lettera, così, che non è compreso nei economissimi, nel bassissimo prezzo di 230 euro, 230 modici euro. Quindi niente, tutto per segnalare che la Germania non è il paradiso e che ci sono un sacco di palle che vengono dette. Certo, se io avessi 10 milioni di ascoltatori pure io direi che la Germania è tutta perfetta. ovviamente non so se passerò quest'esame, perché secondo me sarà un massacro, mi faranno un culo così, ma volevo ringraziare, nel caso io dovrò spedire un'altra, nel caso io dovessi comprare un'altra busta delle lettere, un'altra francobollo, perché vuol dire che non ho passato l'esame. C'è anche la speranza di doverne comprarne degli altri, perché ho passato l'esame, sto facendo l'esame di livello superiore, ma questo, insomma, lo vedo un po' difficile. Però io, nonostante tutto, vi saluto, vi abbraccio ragazzi e soprattutto volevo ringraziare quegli stronzi che mi hanno messo 10 non mi piace, mi sembra, 9, 10 non mi piace, su quello della grafica 3D, è veramente stata una figata, avete delle idee eccezionali ragazzi, come se io me la prendessi per tutto questo, ragazzi, ma pensate veramente che io sia così fragile? insomma, vi devo spiegare tutto, io ho rischiato molte volte di farmi menare, li ho pure presa delle volte, secondo voi ho paure di queste cose? ma per favore, sono ben altre le cose di cui ho paura, per esempio di dove può arrivare la follia di certi uomini violenti? ecco, questa potrebbe essere una mia paura, lo ammetto, ma da lì a stare zitta, ce ne passa, mi dispiace, sono uno spirito libero e oggi sono particolarmente ispirata, sarà di questa luce che mi arriva sulla testa e sono un po' strana, però veramente no, io come carattere sono un tipo piuttosto calmo, finché i computer non mi fanno impazzire, quindi non mi fate impazzire, sì, comunque 230 euro più busta affrancata, perché 70 centesimi o cose per la spedizione non ce li avevano, non rientrano dei 230 euro, in più devo anche presentarmi con l'invito stampato, altrimenti non mi vogliono e, attenzione, attenzione, ricordatevi bene, anche un documento valido, altrimenti non mi evitano e non devo arrivare a ritardo, altrimenti si incazzano, l'esame inizia alle 8.30, quindi devo essere lì mezz'ora prima, dura fino alle 12.30 tutti gli scritti, si sarebbe quindi comprensione di un testo, di diversi testi, la prova di ascolto, la prova di scrittura e poi dopo nel pomeriggio, mi sembra dalle 14.45 fino alle 15.15, quindi mezz'ora, ci sarà la mia prova orale dove mi affetteranno le natiche. Non ho detto parolaccia e lo dico ai miei parenti, adesso non ho detto la parolaccia, quindi apprezzate. Ciao a tutti e statemi bene.